Due nuovi contagiati, uno in provincia di Pescara, l'altro in provincia di Chieti. E il bollettino odierno dell'emergenza coronavirus che in totale tocca quota 3.289 casi positivi al Covid-19. 32 persone, meno una rispetto a ieri, sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva, mentre la terapia intensiva si è svuotata. Gli altri 138, meno 26 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi ci sono 464 pazienti deceduti, numero invariato rispetto a ieri. 2.655 sono le persone guarite che aumentano di 29 unità, 2.593 quelle che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono negative a due test consecutivi. Dunque, gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 170 con una diminuzione di 27 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 225 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 819 in provincia di Chieti, 1587 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 25 vengono da fuori regione, mentre per un caso non è stata indicata la provenienza.